E' appena terminato l'incontro fra la Polisportiva a Bella Vista e il Palo Football Club, risultato 2-0 in favore dei Neroverdi. Allora, mister Morea, tre punti dovevano essere per respirare, tre punti sono stati. Sì, sì, è stata una boccata d'ossigeno importantissima, ho caricato a dovere i ragazzi in settimana, gli ho fatto capire l'importanza di questa partita, mi hanno ascoltato in tutto e per tutto e è stato un risultato giusto, a mio avviso. Nell'arco dei 70 minuti abbiamo dominato, abbiamo costruito più occasioni da gol, quindi sono soddisfatto. Senti, mister, un bitonto però a due facce, un primo tempo abbastanza contratto, poi c'è stato quel gol annullato che ha spaventato un po' i ragazzi, poi nella ripresa è successo qualcosa, cioè hai fatto qualcosa di uno spogliatoio. Sì, il primo tempo forse un po' contratto perché appunto hanno avvertito forse l'importanza del match e quindi sono rimasti un pochettino così contratti, non riuscivamo a mettere giù la palla, a fare le nostre classiche giocate. Nella ripresa, negli spogliatoi gli ho detto di stare tranquilli, più tranquilli e alla fine il risultato sarebbe arrivato e così è stato, il secondo tempo è stato veramente di tinte nero-verde in tutto e per tutto. Cinque partite alla fine del campionato, se il bitonto gioca sempre come il secondo tempo si può vedere veramente la salvezza. Sì, 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 decisamente, anzi un pochettino di rammarico perché potevamo avere qualche punto in più nell'arco della stagione in quanto abbiamo sbagliato troppi gol, avete visto anche oggi diverse occasioni sotto rete clamorosamente mancate. Diciamo che questo è stato un po' il light motive della stagione, troppi gol sbagliati, poi alla prima disattenzione siamo stati sempre puniti. Oggi non è stato così, siamo stati anche più quadrati in difesa e non abbiamo fatto passare nessuno. Ora, al di là di quell'occasione lì del calcio di punizione annullato, veramente hanno fatto ben poco e il nostro portiere non ha fatto interventi, almeno così mi è parso. È tutto dal centro sportivo Antonucci di Bitetto, ringraziamo Mr. Morea per la sua collaborazione. Vi ricordo il risultato polisportiva Bella Vista Bitonto 2 Football Club Palo 0. È tutto, grazie. 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 Grazie.